Ehm... Hai sentito la versione più sopra? Ahahahah Ma sono dieci? Ehm... Ehm... Abbassa un pochino ...la versionale spettacolo della Emma Aspetta, ma che è su questo disco? Sì, sì Emma Kiki 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 Sì, si intitola questo pollo di frittata Come? Frittata 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 Allora, pensami troppo E adesso tu puoi stare a foto Devo parlare La presentazione è fatta Dopo devi arrivare ancora Ma... 10 Vediamo, Giulio Sì Ma voi non senti un caso Sì Che stai facendo? Alza e li metti da nuovo Perché facciamo una stagione Allora devi stare a fare una fotografia Ehm... Ehm... Ma... Come e... La orina... Ma... Ma... Oh... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.